Siamo qui con l'allenatore dell'Epomeo che oggi esce sconfitto contro il Partisan per 3-0. Che squadra e che cosa secondo lei ha sbagliato la sua squadra in questa partita? Abbiamo sbagliato sicuramente nel modo di difendere, molto confusionari. Potevamo fare molto di più sotto questo aspetto, anche se poi i gol sono scaturiti da deviazioni, autoreti, eccetera. Nel primo tempo avete sofferto tanto il possesso da parte del Partisan. Da che cosa era dovuto questo fatto di non riuscire a creare le occasioni? Anche se qualcuno di occasione abbiamo avuto anche clamorosa, sì, quello che dici è giusto. Penso, sono sicuro, più l'approccio alla partita, che poi non è una scusante assolutamente, ci siamo trovati di fronte a una squadra un po' più forte di quella dell'anno scorso, ci ha messo molto in difficoltà e questa è una questione di lavoro in settimana che sta iniziando a mancare, insomma, perché ci serve molto provare le situazioni. E ora, anche in vista della prossima partita, su che cosa deve cambiare assolutamente la sua squadra? Determinazione, quella è la prima cosa. Determinazione è voglia di fare, quello è il minimo, il minimo indispensabile che forse avevamo creduto di avere nelle nostre doti, invece quello che più manca.